Partiamo col botto. Noi in ogni partita il nostro obiettivo è quello di riuscire a tenere il massimo dei punti e così sarà anche domani, rispettando sempre tutti gli avversari che abbiamo incontrato e così continueremo a fare. Sicuramente è un avversario che ha qualità, però a noi deve interessarci poco quello che abbiamo di fronte. Dobbiamo rispettarlo sempre e comunque, ma dobbiamo sentire l'esigenza di voler prendere il massimo da ogni gara. A me è sempre piaciuto ragionare di partita in partita e così voglio continuare a fare, ben sapendo che più continuano a passare meno ne mancano, quindi fra un pochino potremo anche provare a vedere che situazione si è creata e quali possono essere gli obiettivi da cercare di raggiungere. Però per il momento credo che ancora ci siano a disposizione tanti punti ed è importante continuare ad accumularli per poi capire bene quello che succederà nel rush finale. Noi abbiamo lavorato per provare a trovare delle soluzioni per mettere in difficoltà conoscendo anche quelli che sono i loro punti di forza, ma anche i punti fragili che ogni squadra poco tempo fa sono andati a impattare 0-0 sul campo del Frosinone. Vengono da diversi risultati positivi, sono inciampati a Empoli ma sono nel finale. Una squadra solida che ha qualità nei giocatori offensivi, che ha esperienza, che ha dei giovani interessanti. Insomma, un avversario che va rispettato perché ha delle qualità per poter mettere in difficoltà noi, così come ha fatto con tantissime altre squadre ultimamente. Però, ripeto, la nostra sensazione è quella di voler continuare da dove abbiamo lasciato domenica contro l'Avellino. Sicuramente sono convinto che è una squadra che è composta da tanti interpreti bravi, tanti, per assemblare tanti interpreti bravi ovviamente ci sono due strade. O tagliarne fuori più della metà e puntare dritti dalla prima giornata a 11 ragazzi, però non considerando le qualità degli altri, oppure cercare di costruire, amalgamare, migliorare, crescere. Per fare tutte queste cose bisogna inevitabilmente passare per dei buchi, per dei passi negativi. Noi lo stiamo continuando a fare, stiamo alternando delle grandi prestazioni a dei passaggi a vuoto. So benissimo che il tempo a disposizione, dall'inizio lo sapevo, non era illimitato, però io non ho voluto fare la corsa col trintempo, ma ho voluto fare quello che mi piace fare, cioè provare a assemblare tutti i giocatori a disposizione, usandoli chi prima e chi dopo tutti, perché sono, ripeto, sempre straconvinto che nell'arco di un campionato così lungo la qualità di tutti è necessaria per ottenere dei risultati positivi. Come hai fatto la premessa tu, penso che abbiamo fatto tanti punti. Poi ovviamente quando si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, spesso sento dire che abbiamo perso punti con la Provercelli, raramente invece sento dire che abbiamo preso punti anche a squadre importanti, che siamo stati in grado di fare delle partite belle, di ottenere 53 punti, non sono pochi, perché le squadre che ci stanno intorno non vivo dalla realtà sul posto, però le vedo che hanno tanto entusiasmo, che sono contento, eppure se andiamo ad analizzare bene quelle che sono le rose delle squadre che ci circondano, scopriremo tante cose, a me non mi va di farlo perché mi piace focalizzarmi sulla mia e sono convinto che la mia è in grado di continuare a crescere, di diventare più matura, perché sicuramente la maturità è quella che in questo percorso c'è un pochino mancata. Sul calendario semplice e difficile sapete come la penso, perché ogni partita nasconde le insidie, noi siamo stati i primi che l'hanno dimostrato, per me in questo momento stiamo andando in avanti, stiamo crescendo come squadra, ovviamente continuiamo a commettere degli errori dei passaggi a vuoto e sono quelli i margini più grandi che dobbiamo cercare di migliorare, perché riuscendo ad avere la continuità che abbiamo avuto nelle ultime partite e sono convinto che continueremo ad accumulare dei punti che saranno importantissimi per la nostra classifica finale.